Come se non bastasse la crisi idrica che da mesi costringe l'ente gestore a razionalizzare la distribuzione, a Gela ci pensa anche la rete idrica con l'abbrodo a amplificare i disagi ai cittadini. Due guasti diversi nel giro di una decina di giorni di distanza l'uno dall'altro hanno lasciato a secco diversi quartieri della città. In alcune zone niente acqua dei rubinetti per oltre 20 giorni, neppure durante i turni previsti in calendario, ed i disagi sono enormi. L'ultimo guasto che è avvenuto ieri segnalato da Caltacqua riguarda una valvola pneumatica che non ha funzionato bene, ma già è stata sistemata ieri stesso dai tecnici di Caltacqua. Questo purtroppo non ha permesso l'erogazione dell'acqua in alcune aree della città di Gela che sono fornite dalla zona di Caposoprano. Quindi si sta andando pian piano, riprendendo verso la normalità, ovvero la distribuzione una volta ogni due giorni, così come già si era intervenuto all'inizio. Oggi i guasti sulla rete sono stati entrambi riparati, l'erogazione è ricominciata, ma per i quartieri rimasti a secco il ritorno alla normalità richiederà ancora qualche giorno. Il motivo lo spiega proprio il sindaco che in questi giorni ha mantenuto un confronto continuo con Caltacqua. C'è un sistema che ovviamente non è stato concepito per avere dei blocchi. E quindi quando c'è una rottura di una tubazione di Siciliacqua come quella di circa dieci giorni fa, anche quando Caltacqua dice che si sta ripartendo con la fornitura idrica, ovviamente non è realtà, o meglio, non avviene in quel preciso momento, ma la reale ripartenza avviene o nella normalità si avrà solo dopo dieci, dodici giorni. E' per questo che abbiamo convocato d'urgenza Lati, Caltacqua e Siciliacque per sistemare ovviamente questa programmazione nel momento in cui ci sono queste problematiche. Caltacqua intanto ha comunicato i nuovi turni di distribuzione. Si riprende con l'erogazione a giorni alterni, almeno fino alla prossima rottura.